Una mostra sulle figure del presepe, ispirata da una visione avuta da una grande mistica, è quel che ha realizzato al Museo Marino Marini di Pistoia Andrea Rauch, un celebre designer e illustratore che qui vi presenta una sua personale, con l'esposizione che sarà aperta al pubblico sino al giorno dell'Epifania. La mia natività, che è questa, nasce dalla visione di Santa Brigida. La visione di Santa Brigida è un testo della fine del 300, anzi all'inizio del 400, Santa Brigida è una mistica svedese che raccontò una cosa straordinaria, cioè improvvisamente lei vede una donna nella grotta, vede improvvisamente un lampo di luce e per terra c'è un bambino nudo, tutto pulito e lucente, cioè è una nascita miracolosa. Quindi io ho rappresentato, o perlomeno ho cercato di rappresentare, per quanto mi riusciva e con i mezzi che avevo, la visione di Santa Brigida, cioè una nascita che è un improvviso esplosione di luce. Quindi si parte a un trittico, parte con l'annunciazione, poi appunto la nascita vera e propria, ancora non c'è il bambino, ma c'è il padre e la madre adoranti e infine la stella cometa che è l'annuncia pastore.